Ragazzi, ci siamo! Torna a Sondro, il 101% Basket Camp, l'appuntamento estivo dedicato ai giovanissimi appassionati della Palla Spicchi. Organizzato come sempre dall'Associazione Sportiva Dilettantistica ASD, 101% Basket Camp, in cabina di regia e sotto la rettina per dare il buon esempio, troviamo Matteo Cassinerio, che come sempre trasmetterà ai suoi allievi la passione per uno degli sport più belli al mondo. E quest'anno, una clamorosa novità con il camp che farà tappa anche in Serbia. Allora, Palasceghi di Sondrio, dal 12 giugno al 7 luglio, sono quattro turni e quest'anno una novità, facciamo un camp in Serbia presso un paese vicino a Belgrado, dove il campione della palacanestro mondiale, perché è un giocatore ex NBA che gioca adesso a Bologna, Milo Stodosi, ci ospiterà e quindi porteremo una ventina di ragazzi di Sondrio, della Valtellina, qualcuno anche di Morbegno, insomma a fare questo camp, è un'esperienza importante. Basket, ma non solo. Pensiamo infatti all'uscita nel rafting, grazie all'indometro a Valtellina River, e poi gli sconti famiglia per chi ha più figli. Prezioso anche il coinvolgimento di un pool di sponsor e della fondazione Pro Valtellina. Tutto sul sito www.101.basket.sondrio.it, le iscrizioni, c'è il modulo, quindi molto semplice, tutte le informazioni, è comunque possibile anche tramite email chiedere informazioni, oppure contattarmi tramite il numero di telefono che si trova. Quattro turni, il primo dal 12 al 16 giugno, quattro magliette con i colori diversi per ogni turno, ma soprattutto la possibilità di lavorare e giocare con chi frequenta addirittura i parquet dell'Eurolega. Matteo Cassinerio, responsabile tecnico del camp, è infatti assistente coach di Sergio Scariolo alla Virtus Bologna, una delle corazzate del nostro basket. Sicuramente è una cosa, penso e spero interessante per loro, perché interfacciarsi comunque con persone che allenano in Eurolega, campionato italiano di Serie A1, è sicuramente interessante, anche magari provare, insomma, nella vita, l'esperienza e il sogno di arrivare a grandi livelli. E dunque Mini Basket e non solo, la calda estate sondriese è pronta a partire anche in casa del 101% Basket Sondrio Camp.